Ora è caccia aperta al picchiatore che nel centro di Parma ha già preso di mira quattro persone. Che sia la versione parmigiana del demenziale knockout game non si sa. Quel che è certo è invece che il cerchio dei carabinieri si stringe e che presto questo personaggio potrebbe finire in manette. Quattro aggressioni a febbraio di cui una negli ultimi giorni dopo il triplice ride del 13 febbraio. Le vittime, ignari passanti, scelti a caso, tutti atterrati da violenti pugni in faccia. Per ora pochi indizi disponibili. Ci sono le testimonianze delle persone aggredite ma anche alcune foto tratte dagli impianti di videosorveglianza installati in centro tra Piazzale della Pace e Via Garibaldi, il luogo dove il picchiatore ha agito più frequentemente. Proprio sulla scorta di quei fotogrammi i carabinieri invitano chiunque riconoscesse quell'uomo a fornire informazioni recandosi nella caserma di Via delle Fonderie o contattando il 112. Sempre sul fronte della cronaca e sempre i carabinieri hanno arrestato per evasione l'autore della rapina ad una tabacchieria di Via Baganza avvenuta il 25 febbraio del 2013. L'uomo attualmente sottoposto agli arresti domiciliari a Salso Maggiore è stato sorpreso mentre si aggirava da solo nel parco ducale. L'arrestato non ha fornito alcuna giustificazione del suo allontanamento dal luogo di esecuzione pena, peraltro ben lontano. L'autore del colpo aveva fatto irruzione nella tabaccheria minacciando pesantemente i titolari armato di un grosso coltello.